...e che non non ha, una speranza che non tenute e combattere con la dottrezza di un regno di Dio posseduto con un amore che sconfina l'equilibrio. O spesso è il nostro itinerario Dio, il demonio, il quale però se un conto Dio ci tenta in mano. Noi abbiamo andato a pubblicare la madre di verità alla pubblica, poi con i nostri ingaggi personali che si chiamano attuali in teoria naturale, perché allora siamo capaci di agire, ma poi alla fine, quel che suggerisce il demonio, noi lo vogliamo. E allora questa volontà vulnerata ai mani, tutti, noi diciamo anche l'unico, abbiamo bisogno di ogni giorno, di atti viventi per creare, di speranza, per ottenere il mio amore per vincere. Omnia, vincit, la calma, la morte, che al lavoro di Dio è superante, è vincente, è cristiano che vi fa, dove viene statissimo? Perché vive che non accoglierà a tutti, è tutto il cristianesimo che si diventaglia alla nostra salvezza. Per centrare benemente i tanti misteri di questa attualità, domenica, tempo, ordinario, tra l'anno, bisogna assumere la vita della nostra vita. Noi saremo gli attualità della nostra salvezza, perché Dio non è la grazia, se la teniamo. E ci auguriamo di trovarci in piede, oltre la morte, là dove la vita diventa eterna. Converso a più in un'unione.